Waiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiw muro tranquillamente dei palazzi così tutti i condomini saranno contenti scherzo naturalmente però dalla vengono non dai muri però questi si trovano facilmente e sono dei pezzi di grondaia tagliati ad hoc cioè nel senso che hanno una determinata lunghezza come vedete quando c'è bisogno di più spazio si usano le giunture che fanno in modo che si possa utilizzare ancora più spazio e addirittura in questo caso abbiamo dovuto usare doppia giuntura per farli poi ritornare per avere proprio le note se ti allunghi un attimo qui ci sono tutte le altre note questo è quasi due ottave e mezzo di tubolofone non l'ho montato tutto per non essere troppo ingombrante però è uno strumento armonico a tutti gli effetti come una marimba un vibrafono e adesso ve lo faccio sentire a tutti gli effetti come una marimba un'altra parte di 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 un'altra parte un'altra parte di 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 un Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sempre su come suona il caos.